Ormai la parola ghosting è presente anche all'interno del nostro vocabolario, tutti la conosciamo, è quel fenomeno per il quale una persona che sto frequentando improvvisamente sparisce nel nulla, non si fa più sentire e mi blocca. Ovviamente il web e tutti i fenomeni social hanno contribuito allo svilupparsi di questo tipo di fenomeno, è semplice non assumersi la responsabilità di chiudere una relazione, una frequentazione e di sparire nel nulla, senza assumersi la responsabilità di riuscire a dire quello che penso, quello che provo e quindi a comunicarlo alla persona che dall'altra parte purtroppo sviluppa delle situazioni problematiche di sofferenza, di malessere, di disagio, che soffre e sta male perché non riesce a darsi pace, sviluppando anche delle sintomatologie che all'interno del mio studio ho visto essere molto gravose da un punto di vista di benessere psicologico tali da compromettere anche la qualità della vita della persona stessa. Il ghosting è un fenomeno molto diffuso purtroppo e ricalca un po' la problematicità della nostra società moderna dove tutto è più veloce, tutto è più semplice, tutto viene facilitato, ma invece tante volte è importante fermarsi, fare dei passaggi che non sono solo per l'altro ma sono anche per noi stesso. Assumersi la responsabilità dal mio punto di vista ci aiuta a vivere bene e ci aiuta a crescere anche se l'età magari anagrafica ci dovrebbe dire che siamo già cresciuti, fenomeno che purtroppo a livello di età si sviluppa non solo i ragazzi giovani ma anche in persone adulte. Leggi l'articolo che ho pubblicato sul mio blog dedicato a questa tematica e se hai buona informazione o senti di non stare bene per aver subito questo tipo di trauma dal mio punto di vista possiamo proprio definirlo trauma, sentiamoci, contattami al 340 4190 915. Grazie